Ha tentato incendiario nella notte a Nuoro, ad essere preso di mira un mezzo dalla società Nuoro Ambiente che in città gestisce il servizio di raccolta differenziata. Un camion Mercedes del modello compatattore adibito alla raccolta dei rifiuti è andato completamente distrutto nella parte anteriore. Un secondo mezzo parcheggiato a poca distanza invece è stato danneggiato dal lancio di una pietra che ha infranto il parabrezza. L'episodio si è verificato ieri sera attorno alle 21.30 nel deposito di Nuoro Ambiente situato a Prato Sardo. Scattato l'allarme sul posto si è recata una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco che ha lavorato un paio d'ore per domare le fiamme ed evitare che interessassero altri mezzi della ditta. Sul posto è giunta anche una volante della questura di Nuoro. Gli esami tecnici dei vigili del fuoco hanno accertato l'origine dolosa del rogo. Per tanto la squadra mobile ha avviato le indagini. Stamattina gli specialisti del gabinetto provinciale della polizia scientifica hanno effettuato i rilievi per ottenere elementi utili volti a individuare gli autori dell'attentato incendiario.